Massimo Maccarone, allenatore di questa squadra che ha affrontato l'Arezzo a viso aperto, quindi complimenti per la partita. Nonostante la sconfitta, la sua squadra ci è piaciuta molto. Vi ringrazio, sono contento della prestazione dei ragazzi. Penso che siamo partiti un po' timidi, i primi 20 minuti, 25, poi abbiamo fatto un buon fine primo tempo. Giocavamo contro una squadra superiore a 3 categorie a confronto di tutte le altre e a giocatori importanti, ma noi siamo venuti qua a giocarcela tranquillamente. Gli episodi, come sempre nel calcio, condannano un po' i risultati, perché un po' di fortuna sul palo di Bongiorno in primo tempo avrebbe cambiato la partita, come il 2-1 di Zini, se l'avesse messo dentro, comunque aveva una possibilità in più di poter credere in qualcosa di più. Però posso solo dire che l'Arezzo ha meritato la vittoria, giustamente, perché comunque è una squadra che compete per altri obiettivi con fronte al nostro. Oltre a tutte le squadre di vertice che ha visto, come giudica l'Arezzo? Penso che, l'ho sempre detto anche quando l'ho vista l'andata, è la squadra più forte, che ha giocatori importanti, che ha tanti ricambi ed è giusto che è nella posizione che è. Poi ha trovato comunque, sia nella Pianese che il Poggi Bonzi, due squadre che stanno facendo un grande campionato, però penso che l'Arezzo non abbia rivali. Il rimpianto è anche di aver preso l'1-0 su un palla inattiva, che è un po' il vostro tallone d'Achille nel campionato. Sì, lo è, ma più che altro ultimamente, perché nell'ultimo sette partite ho preso un gol su azione, due su rigore e quattro su calci piazzati. Abbiamo lavorato tanti settimane su questo, quella palla è passata lì in mezzo a tanti e dobbiamo cercare di rilavorare, perché tanto bisogna cercare sempre di lavorare dove ci sono le tue lacune. E noi in questo momento stiamo pagando questo nel giro di ritorno, perché nel giro di andata avevamo preso solo un gol su corner e uno su calcio piazzato. Quindi in questo momento dobbiamo cercare di migliorare questo. Io lo chiedo anche da ex attaccante, si è attirato un po' le orecchie al suo centramanti. Non so se ha seguito la vicenda che ha preceduto la partita. Lui l'anno scorso risultò in maniera un po' irridente nei confronti della curva. Non so se gli ha detto qualcosa, gli ha consigliato come comportarsi oggi ma anche in futuro. Penso che oggi si è comportato bene, non ha segnato per voi. Io ho parlato, ho detto di stare tranquillo, di non rispondere a delle provocazioni. Non ha fatto un gesto che mi piace l'anno scorso, però non giocava con me, quindi quest'anno non l'ha fatto perché è il mio giocatore. Però penso anche che non bisogna cercare di fomentare questa cosa, soprattutto la vigilia, perché comunque crea degli alibi anche brutti all'esterno. Una foto fatta da un ragazzo sicuramente inconsciamente, ma perché è un ragazzo per bene, io lo ce l'ho da due mesi. Quindi un ragazzo giovane come sono tanti altri che possono fare degli errori, dagli errori si paga. Però lei mister in carriera non ha mai esultato così, mi sa, vero? Ma da memoria? No, no, io non l'ho mai fatto, ma perché non è mai venuto, nonostante mi fischiavano sempre tutti, però non l'ho fatto.